Per quattro decenni, il popolo ha vissuto sotto il governo di un tiranno che negava i più elementari diritti umani. È giunto il momento, per lui, di farsi da parte. Dobbiamo andare avanti con la missione NATO e consegnarlo alla giustizia. Sono per libertà di stampa, lezioni pulite e parità per le donne. Questo non riesco a dirlo. Ai posti! Pronte! Leader Supremo, le Nazioni Unite insistono perché tu vada a New York a chiarire. Bene, andiamo in... America! Ammiraglio generale, benvenuto a New York. E già che è qui, le raccomando caldamente di visitare l'Empire State Building, prima che lei o uno dei suoi cugini lo abbattiate. Ben svegliato, non ti riconoscerà nessuno senza questa! Non è che mi presteresti dei soldi? Diciamo 20 milioni di dollari? Sono qui per discorso politico a Nazioni Unite. Dai, fa caldo, non scherzare. Vieni, vieni con me! Mi levi le mani dalle tette, gentilmente? Sono tette? Ma tu non eri ragazzo? Ha scelto due offerte di fare general manager. Non puoi fare il general manager, sono io il general manager. Lo posso fare se ti è uscito. Ok, beh... Vai a buttare l'immondizia? T'attacchi, sfigato! Ehi, cuffietta, datti una mossa, dai, bello bello. Il prossimo! Il piano è questo. Siamo due comunissimi turisti americani. Che bello essere un americano! Ah, hello, hello, I'm Messiah, Statua di Libertà, pooh, Iwa! No, no! Stopping to the floor, make me want to save.